Intanto Madame Bontemps, che aveva ripetuto mille volte che non voleva andare dai Verdurand in estasi per essere stata invitata ai mercoledì, calcolava come avrebbe potuto recarsi da loro il più spesso possibile. Ignorava che Madame Verdurand desiderava che non se ne mancasse nessuno. D'altra parte Madame Bontemps apparteneva a quella categoria di persone poco ricercate che quando vengono invitate da una padrona di casa al soggiorno fisso non vanno da lei come le persone che sanno di essere sempre gradite quando hanno un momento libero e il desiderio di uscire. Al contrario si proibiscono per esempio la prima e la terza sera immaginando che la loro assenza verrà notata e si riservano per la seconda e la quarta a meno che non siano state informate che la terza sarà particolarmente brillante. Allora seguono un ordine inverso adducendo come scusa che disgraziatamente l'ultima volta non erano libere. Così Madame Bontemps calcolava quanti mercoledì ci fossero ancora prima di Pasqua e in che modo riuscire ad averne uno in più senza aver l'aria di imporsi. Contava su Madame Cotard che doveva riaccompagnare a casa per farsi dare qualche informazione. Oh Madame Bontemps vedo che vi siete alzata non va affatto bene dar così il segnale di fuga. Mi dovete un indennizzo per non essere venuta l'ultimo giovedì. Su sedetevi un momento tanto non avrete da fare altre visite prima di cena. Davvero non vi lasciate tentare? aggiungeva Madame Swan porgendole un vassoietto di dolci. Non sono affatto cattive queste schifezzuole. All'aspetto non sono granché ma assaggiatele. Poi mi direte. No al contrario hanno un'aria deliziosa rispondeva Madame Cotard. In casa vostra Odette i viveri non mancano mai. Non c'è bisogno di chiedervi il marchio di fabbrica so che fate venire tutto da Rebatté. Devo dire che io sono più eclettica. Per i pasticcini, per i dolciumi in genere mi rivolgo spesso a Bourbonneux. Ma riconosco che lì non sanno neanche cosa sia un gelato. Rebatté per tutto quello che è gelato o bavarese o sorbetto è un grande artista. Come direbbe mio marito è il NEC plus ultra. No ma questi sono solo dolcetti fatti in casa. Davvero non volete assaggiarne uno? No non potrei più cenare rispondeva Madame Bontan. Però mi siedo ancora un istante. Adoro chiacchierare con una donna intelligente come voi. Mi troverete indiscreta Odette ma mi piacerebbe sapere che cosa ne dite del cappello che aveva Madame Trombert. So che vanno di moda i cappelli grandi ma insomma non era un po' esagerato e a confronto con quello che aveva in testa l'altro giorno quando è venuta da me questo era microscopico. Ma no io non sono intelligente diceva Odette pensando che fosse distinto dire così. In fondo sono soltanto un ingenua che crede a tutto quello che le si dice e sto male per delle stupidaggini e insinuava che all'inizio aveva molto sofferto di aver sposato un uomo come Swan che aveva una vita sua e la tradiva. Intanto il principe di Agrigento avendo sentito la frase io non sono intelligente si sentiva in dovere di protestare ma non aveva la battuta pronta. Cosa cosa? Esclamava Madame Bontan. Non siete intelligente. Questa poi. Per l'appunto mi stavo proprio chiedendo ma cosa sento? Diceva il principe di Agrigento aggrappandosi a quel lappiglio. Le mie orecchie mi devono avere ingannato. Ma no vi assicuro diceva Odette in fondo sono una piccola borghese molto emotiva piena di pregiudizi che vive nel suo guscio e soprattutto estremamente ignorante. E per chiedere notizie del barone di Charlus avete visto il caro baronetto? Gli diceva. Voi ignorante protestava Madame Bontan. Ebbene allora che ne direste del mondo ufficiale? Tutte quelle mogli di eccellenze che non sanno parlare che di vestiti. Volete saperne una? Una settimana fa porto il discorso sull'Oingrin con la moglie del ministro dell'istruzione. Il Lohengrin? Mi risponde. Ah sì l'ultima rivista delle Foliberger. Sembra faccia morire da ridere. Ebbene cosa volete? Quando si sentono certe cose ci si sente ribollire. Avevo voglia di graffiarla perché io ho il mio caratterino. Vi pare signore? Diceva rivolgendosi a me. Ho ragione o no? Sì però interveniva Madame Cotard. Quando si è interrogati così di punto in bianco senza preavviso può essere scusabile rispondere un po' a caso. Ne so qualcosa perché anche Madame Verdurand ha l'abitudine di metterci il coltello alla gola. A proposito di Madame Verdurand domandava Madame Bontan a Madame Cotard. Sapete chi ci sarà da lei mercoledì? Ah mi viene in mente adesso che abbiamo già accettato un altro invito per mercoledì prossimo. Perché non cenate con noi quel mercoledì? Così poi potremo andare insieme dai Verdurand. Mi intimidisce entrare da sola. Non so perché ma quella donna così imponente mi ha sempre fatto paura. Ve lo dico io che cosa vi spaventa di Madame Verdurand rispondeva Madame Cotard. È la voce. Che cosa volete? Non tutti possono avere una voce così gradevole come Madame Swan. Ma il tempo di dir due parole, come dice la padrona, è il ghiaccio erotto. Perché in fondo è molto cordiale. Ma capisco benissimo la vostra sensazione. Non è mai piacevole trovarsi per la prima volta in una terra sconosciuta. Anche voi potreste pranzare con noi, diceva Madame Bontan a Madame Swan. Dopo pranzo si potrebbe andare tutti insieme dai Verdurand a fare Verdurand. E se per questo la padrona dovesse farmi gli occhiacci e non invitarmi più, una volta da lei resteremo tutte e a chiacchierare tra di noi e credo che mi divertirò moltissimo. Ma questa affermazione non doveva essere del tutto vera. Perché Madame Bontan domandava. Chi pensate ci sarà mercoledì prossimo? Che cosa si farà? Non ci sarà almeno troppa gente. Io non ci andrò certamente, diceva Odette. Noi faremo soltanto una breve apparizione l'ultimo mercoledì. Se per voi è lo stesso aspettare fino allora. Ma Madame Bontan non sembrava molto affascinata da questa proposta di rinvio. Benché i meriti intellettuali di un salotto e la sua eleganza siano generalmente il rapporto inverso, più che diretto, bisogna credere, visto che Swan trovava Madame Bontan simpatica, che ogni decadimento accettato abbia come conseguenza di renderci meno difficili nei confronti delle persone che ci si era assegnati a trovare piacevole e frequentare. Meno difficili sulla loro intelligenza, come per il resto. E se questo è vero, gli uomini, come i popoli, vedranno la loro cultura e anche la loro lingua sparire con la loro indipendenza. Uno degli effetti di questa minore intransigenza è l'aggravarsi della propensione, a partire da una certa età, a trovare gradevoli le parole che sono un omaggio alla nostra mentalità e alle nostre inclinazioni e un incoraggiamento ad abbandonarvisi. È l'età in cui un grande artista preferisce alla compagnia di talenti originali quella di allievi, che hanno in comune con lui soltanto gli aspetti esteriori della sua dottrina e dai quali viene incensato o ascoltato. Quella in cui un uomo o una donna di un certo prestigio intellettuale, che vivono per un amore, troveranno più intelligente a un ricevimento la persona forse inferiore, ma che con una frase avrà mostrato loro che sa comprendere e approvare cosa significa un'esistenza votata alla galanteria e avrà così piacevolmente lusingato la tendenza voluttuosa dell'uomo o della donna. Era l'età anche in cui Swan, diventato marito di Odette, si compiaceva di sentir dire a Madame Bontemps che è ridicolo ricevere soltanto duchesse, traendo da questo la conclusione, al contrario di quello che avrebbe fatto un tempo dai Verdurin, che era una buona donna, molto spiritosa e niente affatto snob, di raccontarle storielle che la facevano torcere dalle risa perché non le conosceva e che peraltro lei afferrava subito amando adulare e divertirsi.